Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo con i nostri gamberetti alla conquista del mondo stagione 2 signori Allora signori siamo messi bene in classifica ma prima di partire col video volevate che partisse subito il video ma invece prima di partire il video Io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di fare un salto sulla sezione abbonamenti Se eventualmente vi va di leggere le cagate che ho scritto e se qualcuno se vuole abbonare a me fa piacere Vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate sia su instagram che su facebook sempre come maullo941 Mi trovate sulla piattaforma viola quella degli streamer sempre come maullo941 in cui ogni tanto facciamo le live e possiamo giocare assieme E ricordo che se qualcuno vuole sostenere anche il canale con qualche donazione basta cliccare sull'opposito link e lo può fare tranquillamente Detto questo signori io vi ringrazio anticipatamente per i like per i commenti per il supporto e per tutto quello che fate per questa serie E per i consigli che mi date noi ci fermiamo qui basta basta con le info e partiamo con il video per una nuova avventura Ok signori allora è partito il mercato è partito di botto perché Kim Bebe è passato dal Paris Saint Germain al Real Madrid E Brozovic è passato dall'Inter al Manchester United Complimenti al Manchester che si è preso il Brozo La partita spostata che non ci interessa e Davis è contento per tutte le partite che si sta a giocare Bravo Davis bravo Davis bravo 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 Allora andiamo avanti signori con il calendario Andiamo avanti con il calendario vediamo un attimino questi allenamenti li abbiamo fatti Sì abbiamo 3A possiamo andare avanti di brutto ok Va bene così andiamo 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 non so quando sia la prossima partita Contro il Colchester signori attenzione scontro diretto Vinciamo questa mettiamo un bel passo pesante sulla promozione ABB va bene mi sta bene signori ABB è un ottimo risultato Andiamo alla partita con il Colchester Andiamo alla partita con il Colchester Dai così siamo carichi siamo carichi signori Non ci può fermare il Colchester Non ci può fermare il Colchester Abbiamo la squadra dei titolari Va bene così facciamo la conferenza stampa No ce ne sbattiamo altamente andiamo direttamente in campo Contro il Colchester signori scontro diretto Seconda contro terza in classifica Vincere oggi sarebbe importantissimo Che ce famo? No perdiamo 2 a 1 Ma no Ma me la sono presa troppo a male Hanno segnato loro con Gambin al primo minuto Ma che stiamo dicendo signori come si fa a segnare al primo minuto Cos'è? Scambio al centro campo tiro gol praticamente Va bene Lady Smith l'aveva pareggiata Poi è uscito Giardino per Pringles E l'hanno vinta loro l'85esimo con Harriet Mannaggia Perdiamo quindi Ah il Stalford l'aveva pareggiato Mannaggia Mannaggia la pupazza Eh vabbè è andata così Abbiamo perso il secondo posto Mi fate vedere se non vedo un attimo la classifica signori Voglio capire Perché sono vedo tutte stanchette verdi Capiamo giusto nella classifica chi è che viene promosso direttamente Non si capisce Sono tutte verdi Non capisco se c'è qualcuna che è promossa direttamente O se andiamo tutti a pre-off Non capisco questa cosa Va bene Comunque siamo terze 52 punti Va bene E va bene 8 punti dal Stalford E un punto dal Colchester Che ci supera malamente Va bene Bamba La Fiorentina ha comprato Bamba Complimenti alla Fiorentina Ok signori Va bene Non demordiamo Non demordiamo Già essere terzo in campionato è tanta roba Tanta roba Dico come erano partiti Con la squadra di pescatori che avevamo Che avevamo dietro Dico Stiamo andando anche abbastanza bene Contro il Bradford I titolari si sono riposati Sì E allora giocano i titolari Signori contro il Bradford Contro il Bradford fuori casa Quindi mi serve per forza La squadra migliore che possiamo Dai così signori Riprendiamoci subito Riprendiamoci subito Dai Grande Leismith Al ventiquattresimo Un gol 47% Possesso palla Due tiri e due occasioni Va bene L'importante è buttarla dentro Salford ha vinto Il Colchester pure Ah Non cambia niente là davanti Non cambia niente Non cambia niente Non cambia niente Gibson Mel Gibson vuole giocare Gibson mio Tranquillo Giocare alla prossima partita Non ti preoccupare Mel Tu sei impegnato Tra un film e l'altro Il tuo posto di squadra Non è a rischio Tra un film e l'altro Tu vuoi anche far Ti tirare le partite a calcio Non ti preoccupare Non ti preoccupare Mel La giochi la prossima Contro il 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 Leighton Gibson è stanco di attendere Ma Gibson mio Ma le stai giocando le partite Non essere rompiscato Dai così Gibson Vai in campo E fammi vedere che stai fare Tanto ancora Cambi di ruolo Non ne abbia Ah Aspettate Vedete Io avevo sbagliato una cosa Ora che ci sto pensando I cambi di ruolo Mi sa che noi non abbiamo cambiato il ruolo A tutti quanti Allora Aspettate un attimo Io se non ricordo male Abbiamo Songo Che Piano di crescita Dovrebbe essere Dovrebbe star cambiata Ah Mi sono impappinato Infatti Tra 343 settimane Diventerà un CC Invece di Mi sono aumentate Praticamente Ok Ma se ce lo vendiamo Songo Signori C'ha 29 anni E' pesantissimo Ma chi mi prende Ma chi mi prende Allora Al suo posto E poi Kaynon Che il DCD Piano di crescita Si è messo A cambiare A diventare un centrocampista Si Ok Ok Messo pure lui A centrocampista Tra 130 settimane Bufala Bufala Maiala Va bene Va bene Va bene Dovremmo cercare Dei centrocampisti No abbiamo detto Che il mercato Non ne facciamo Signori Dobbiamo crescere Con quello che abbiamo Dentro E' vero Vero Meno un attimo Perso Stanno giocando I panchinari Contro il Layton Voglio una vittoria Signori Contro il Layton Dai panchinari Voglio una vittoria Aia Ne perdiamo Invece Angle E si se E' uscito Diagurà Per Giardino E Aladino L'aveva riaperta Al sessattesio Cazzola signori In 30 minuti Non siete riusciti A trovare un gol Ma porca miseria Niente Episodio sfortunato Episodio sfortunato Perdiamo altri Tre punti pesanti Perdiamo altri Tre punti pesanti Che fanno avvicinare Il Celta Il Celta Il Celta Nam Lo fanno avvicinare A tre punti Mannaggia L'Oldham addirittura Una partita in meno Cazzo Se l'Oldham le vince entrambe Praticamente ci pareggia Va bene Va bene Andiamo avanti Signori Non demordiamo Non demordiamo Andiamo avanti Andiamo avanti Mariglia Questi esercizi Non li ho fatti Va bene Faccio questi esercizi Veloce veloce Signori E ci vediamo Ovviamente Li faccio a telecamera Spende E ci vediamo Dopo Allora signore Abbiamo fatto un po' Di Cacare In questo Esercizio Abbiamo fatto Una B Una C Però Erano complicati Mi discorpo Posso dire che erano complicati Erano decisamente complicati Allora andiamo avanti Vediamo se c'è L'ultima partita Di gennaio Non abbiamo fatto Grosso mercato Attenzione Fermi tutti Allora Fermi tutti Questo video Forse sta durando Un po' Troppo Quindi Abbiamo reso conto Finale Su Miura Miura Che è un 59 Tanta roba Signori Tanta roba Allora io Mi fermo qui Confermiamo Il cambio Di ruolo A McAgre A McAgre A McGregor A nostro McAgre Confermiamo Il cambio Di ruolo Perfetto E' un nostro Dimentato Il nostro Esterno Destro Buono così Allora signori Io mi fermo qui Non registro Nessun altro episodio Così poi Nei commenti Mi fate sapere Intanto L'autora Martinez E' passata All'Arsenal Va bene Mi fate sapere Se prendere Miura Oppure No Dei dover Signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui Sul canale Per un prossimo Appuntamento Bella raga Ciao